Eugenio Dorsi è assente, la giunta pure, tranne l'assessore Fabiola Mazzarella. Così Aula Giglia si irrita, si indispone e per tutta la risposta boccia il rendiconto finanziario 2012. Una seduta, quella di ieri caratterizzata dalla netta presa di posizione del Consiglio Provinciale che sullo strumento contabile si è espresso con quattro voti contrari e sei favorevoli. Ma l'ago della bilancia sono stati i sette astenuti che sono andati ad ingrossare il fronte del no. Dunque non passa il conto consuntivo, così come non sono passate le proposte del settore ambiente relative alla modifica delle delibere del commissario straordinario per la costituzione delle società consortili, per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, Ato, e l'approvazione degli schemi di statuto e dell'atto costitutivo delle nuove società consortili a responsabilità limitata. Il Consiglio ha invece approvato tre debiti fuori bilancio e la proposta di modifica degli articoli 3.8 del regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori provinciali. Accantonate invece la discussione riguardanti interrogazioni e mozioni per mancanza degli assessori interessati in aula. Cosa è stato detto da Londra e che lo sentiamo nel corredorio? La mia istanzione c'è? Cosa si sta facendo? Perché non è possibile lasciare i bambini di questa condizione con la speranza dell'impedia che io desidero che la mia istanzione si assuma tutta la responsabilità in una sede come questa e ci dica esattamente come stanno le cose, lo dica a noi, lo dica anche a loro.